Our strategy will be to talk about the participants who are here And we will be really going to talk about interests of people And of course we will show them the time We need it, we need it, a lot of luck We are almost done, we are almost done Siamo sul canale L'ha lanciato? Siamo sul canale, ma sono controllato la connessione per solo un po' minuti Però non c'è un nuovo lancio sul blog No, non c'è un nuovo lancio perchè non è ancora online Ok, grazie E... Alle volte forse siamo... Abbiamo in questi tre mesi commesso degli errori di inesperienza No, no, no E soprattutto siamo un movimento che vuole cambiare l'Italia per cui tutti i mezzi di comunicazione che in Italia appartengono ai partiti appartengono al potere ci hanno fatto la guerra Voi sapete, noi proviamo a fare tutto Tutti i mezzi di comunicazione che in Italia appartengono ai partiti e usavano i giornalisti e anche se abbiamo parlato tutto con noi parlavamo con noi e anche se abbiamo parlato i giornalisti pensavano che i giornalisti pensavano per cui è stato... abbiamo subito una fortissima pressione Poi siamo riusciti a fare gruppo e nell'ultimo mese stiamo andando alla grande E noi ci siamo sempre interessati di questo... di qualunque caso di violazione dei diritti e anche di te infatti e ti faccio vedere sul blog che abbiamo fatto un pezzo su di te ad esempio Ecco, guardate in questo modo abbiamo ottenuto molto, molto l'attenzione e adesso parliamo di te in italiano però in questo blog in questa matrice parliamo di te perché vogliamo aiutare con l'attenzione ma ovviamente aiutando a te vogliamo ottenere molto, molto l'attenzione alla tua situazione Alma, con internet possiamo questa è la grande forza con internet riusciamo a girare intorno all'informazione diciamo di regime a bypassare gli intermediari a a da finisco mi sto morendo al freddo c'è arrivato eh, anch'io mi chiede mi chiede c'è un pinguino mi chiede mi chiede si si, tutto a posto e me lo devi dare tu e me lo devi dare tu e io sono stato uno uno di quelli che ha speso di più ho speso 150 euro 150 euro 150 euro 150 euro io zero io zero pure io zero si la benzina si la benzina 50 euro 50 euro di questi 150 euro 50 me le ha dato mia zia quella brutta quella brutta questo è un significato importante significa che noi tutti in Parlamento magari sbagliamo ma siamo liberi di sbagliare perché non c'è nessuno extra какие-то vne 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 perché giudici ci sono il nostro Parlamento ma il nostro Parlamento adesso è così la stessa cosa sono tutti anziani ma abbiamo solo uno partito solo una scelta quindi non ci sono partiti di opposizione no Non stiamo registrando, eh? Non stiamo registrando. Non stiamo registrando. Sono piccole ma sono come... Pietro Morezzi. Sì, Pietro Morezzi. Sono come... Pubelle. Pubelle... Immondizie. Pubelle? Sono come le bambole. Ah, ok, ok, ok. Allora, se vuoi essere più stabile, metti un bicchiere. Sì, sì, ok, perfetto. Ci siamo, siamo già a 200 minuti. Allora, siamo ufficialmente in streaming. Ti ringraziamo nuovamente per averci ospitato. E ti chiediamo, così lo possono sapere i cittadini italiani, come stai. In questo momento mi sento molto male. In questo momento mi sento molto male. ovviamente a causa dell'arresto del mio marito, signora Bliato. E... Io ci sento... Ehm... Io mi preoccupo molto. Io sono sotto depressione. Ehm... 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 Io... Ehm... Io sono appena... Mi tengo dentro. La bambina sta bene? Cardiologica. Ah, no. Ehm... 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 Un'altra vicino... Ma... Non a due territori. Ma nella stessa territoria. Ehm... C'era un grande movimento. C'era... Ehm... Qualcosa... Che non capivo cosa succedeva. Ehm... 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 Un marido di mia sorella. Ehm... Ehm... Il marido di mia sorella... Ehm... Quando... Mentre si mette... Si metteva... Qualcuno bussava... C'era la finestra con la pistola. Eh... Ehm... Hanno alzato un po' la tenda. Ehm... Io sono subito uscita e ho aperto la porta. Mi hanno messo da parte e subito 30 persone sono entrate in casa. 30 persone? Erano tanti. E' stato molto. E' stato più di 20 persone che osservavano il territorio della casa. L'ora erano 50 davvero. Ci hanno messo nel soggiorno. Ma i figli e i bambini erano nella loro camera da letto. Ora mi sono preoccupata per i bambini perché sono rimasti da soli. Perché non avevo qui vicino e mi sono preoccupata cosa stanno facendo con i bambini. Una cosa terribile era che la gente era vestita in modo diverso, in modo casual, in modo... C'era jeans molto vecchie con le stracce... Quindi non sembravano membri di governo. Erano toni capelli... Ciorni, neri. E... Strasso era che... Uno di loro era con... ...una robaica e con un zolato... ...zolato. Qualcuno di loro era in camicia nera... ...con collano doro. ...un doro. Un altro era con urecchini doro. Un altro era con urecchini doro. Un altro era con i capelli... ...como se fosse un punk. Non so. Ma... ...mi hanno fatto spaventare... ...l'aspetto fisico... ...mi hanno fatto spaventare... ...terribilmente. Prima ho pensato che ci fossero i ladri... ...e sono arrivati per ucciderci. ... ...ma il marito di mia sorella... ...che si chiama Bolat? ... ...Lui è stato messo in un altro stanco. Proprio l'altra stanza. ... 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 non ci sono presentati Non c'era nessun documento per fare legalmente loro presenza in casa, per avere il diritto di seguire la casa, controllare la casa, cercare qualcosa in casa. Non c'era avvocato, interprete, allora non erano pure... nessuna persona da parte che potrebbe fare la testimonianza. Certo. Poi, uno di loro ha chiesto quante siete in casa. Ho risposto cinque. E due persone che erano vicine in un'altra casa. Ma ho visto subito che loro sono già... con loro persone erano... le facevano subito le domande. Poi, è apparito una persona. E mi ha detto che... Tutto, per l'interno del video, mi ha показato che... ...on... ...naziane polizie... Dalla... ...su... ...aspetto... ...diciamo... ...del suo vestito... ...mi sembrava... ...un polizotto. Perché lui aveva... ...un segnale... ...un... 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 ...ma c'era... ...anche... ...giubbotto, non so... ...e... ...per questo... ...non ho visto per bene. Eh... ...on... ...pocazò... ...e... ...e... ...como... ...e... ...e... ...polizileno. Mi ha fatto vedere un documento che era... ...sotto... ...eh... ...eh... ...la plastica. Eh... ...on... ...e... 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 ...l'ho messa... ...subito in tasca. ... ...e... 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 Stava perdendo un po' di sangue dal naso e anche dalla bocca. Era tutto bagnato. Chi era con lui nella stanza dove è stato picchiato? Chi era in una stanza in cui era stato picchiato? Non so chi era, ma qualcuno di loro. In frattempo i bambini dove erano? In quel momento i bambini erano ancora nella camera da letto. E mia sestra, dopo che le prevede Bulat, ha chiesto di vedere i bambini. Appena hanno portato il suo marito, la sua sorella ha chiesto di andare dai bambini. E le hanno permesso subito un uomo, e la sua sorella ha seguito lei. Ehm... 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 Ma certo che non capivo l'italiano e anche pensavo o questa è la mafia sotto la polizia oppure la polizia con la mafia. Ehm... 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 E ha tentato di non dire, non capisco niente, non firmo, però le hanno fatto fermare. Ehm... Ma qualcuno le ha picchiato, ha dato un picchiato. E un colpo confuso. E un colpo confuso. E un colpo confuso. Poi hanno chiesto il computer. Ma... Ehm... Ma il computer era con la testiera. Ehm... 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 Non potevano metterlo in ragazzo l'italiano. Ehm... 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 Non... Non hanno potuto di stampare la lettera. Ehm... Non sono riusciti a collegarsi con le stampatrici. In ogni caso, loro erano arrabbiati. Secondo me, loro sono arrabbiati perché non hanno trovato nessuno. E hanno deciso di prenderci me e anche Polato. Ci hanno spiegato che stiamo andando in polizia, prenderanno impronte digitale e fanno le foto. E dopo che ci lasciano liberamente. Mi hanno permesso di cambiare. Perché ero... Mi sono cambiata e sono uscita. E Polato si cambiava e voleva prendere il telefonino. E non gli hanno permesso. E quando erano usciti da casa, ci sono 15 macchine. Ci erano 15 macchine. Ocola 15 macchine. Quanti? Noi i entrei erano 15 macchine. Ma tutti erano senza targa. Le macchine erano senza numeri? Noi, non senza, senza targa. Ci hanno messo in macchina e ci hanno accompagnato verso Roma. Quando prendevano i documenti in casa? Si, hanno preso il passaporto mio e il passaporto di Bolat. Che ora era? Quattro ora era? Focke. In the morning. 4 o'clock in the morning. Alva era con te sulla macchina? La mia moglie era... La mia sestra lasciano lasciare. Mi sono lasciato in casa in casa. 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 Quando abbiamo trovato i documenti, gli stavano i documenti in Bolat. Che avevano una carta di un'altra parte. E' la mia città. 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 Un veloppo. Quel permesso di soggiorno che in Lituana... Non città. L'avrò a casa. This means Thead. They left... Cose lieues. Dovendo? Poi, when we moved on wasktiman in the police? Quando siamo arrivati in polizia, come ho capito, quando eravamo in ufficio di polizia, questi ragazzi che erano a casa mia facevano passeggiate liberamente. Poi, in più, in piccola stanza, eravamo ancora due ore, ci hanno invitato in un'altra piccola stanza, dove erano già ieri, e il capo di polizia ha chiesto di firmare. Poi, mi hanno spiegato che questa è una sola formalità, che è un documento che dice che abbiamo fatto un'impronta digitale. E tutto era in italiano, ovviamente. Non ho capito, non ho capito. Non ho capito, non ho capito. a scrivere in russa, che non capisco niente. Non ho capito niente. Quindi, loro non hanno fatto niente. Poi, in questo documento, questo documento è stato firmato anche dalle persone che eravano a casa nostra. Poi, ci hanno accompagnato fino alla polizia di migrazione. Poi, noi non c'erano dove stiamo andando. Però, nessuno non ci ha detto dove stiamo andando. Quindi, io non sapevo dove stiamo andando. Poi, non c'erano dove stiamo andando. Poi, non c'erano dove stiamo andando. C'erano le persone che tenevano la sua pistola nella nostra direzione. Ma, soprattutto, questa pistola era verso la polizia. Io non ho capito, non ho capito. Io non ho capito, non ho capito. E guardavo sempre a volare. Io ho capito, non ho capito. Se ci sono qualche pochino, non ci sono iniziato a volare. Io avevo tante paure, perché se qualcosa è sulla strada, potrebbe ucciderlo improvvisamente e volare. Certo. Ma, se ci sono alcuni busterini? Però, ci portavano con la strada molto strana. Non capivo dove siamo, non c'era niente. E in generale... Certo, io avevo paura di essere uccisa e lasciata rimasta lì. Ma, alla fine, ci hanno portato in polizia e migrazione. Perfetto. Lì abbiamo fatto le attestazioni digitali. Sì. In progettazione. Da. Bolat, ovviamente, ha smusciato. Se non c'è, non c'è. Certo che Bolat tendeva a dirgli qualcosa. Lui protestava. Non c'è, non c'è. Scusami. Questo non è un interrogatore di polizia. Quindi, se lei vuole fermarsi e fare un po' di respiro e riposo, anche tu? Non c'è. Tranquillamente e stare tranquillo. Ma, se volete fare pausa, non vi spiegare la polizia. Non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è. Già. Sto a posto. 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 Bolat, ovviamente, ha smusciato. Il parlato di che non è un ucciso. Certo che Bolat si protestava. Diceva sempre che non sono criminale. Cosa devo fare? Perché mi fate le foto? Perché mi fate questo? No, perché siamo arrivati molto presto per la polizia migrazione. Ma, certo che l'ora era molto presto per la polizia migrazione. E aspettavamo ancora tre ore. Quando ci siamo saliti al secondo piano. La sala era piena di migranti. La gente che accompagnava me sono riuscita a dare i miei documenti, a passare i miei documenti. Tutti i migranti passavano molto velocemente, massimo 20 minuti. E tutti i migranti erano alla fine e liberi. Sono rimasti solo io e Bolat. In aula e in sala non c'era più nessuno. E noi non capivamo perché ci siamo. Non potevamo chiamare nessuno perché non avevamo i telefonini. E in seguenza non potevamo chiamare il nostro avvocato. No, ehm... 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 Allora, vorrei dire che ho il passaporto falsificato. Ho detto, no, il mio passaporto non è falsificato. No, il tuo passaporto è falsificato. Allora, in questo caso ho chiesto di chiamare all'ambasciata kazaka. Poi, improvvisamente, comincia a dire, tutto bene, tutto sarà bene per te. Quando chiedevano a Bolat, dove hai il tuo permesso di soggiorare? Lui ha detto, a casa. Ha anche detto che le vostre persone non l'hanno preso, non l'hanno lasciato apposta. Daitemi la possibilità di andare a casa, prendere tutti i documenti e anche i biletti. Passaporto con il permesso di soggiorno, con i biletti. Ma il passaporto era da loro. Però non ci hanno permesso. Eravamo lì ancora. Più o meno siamo stati in questo ufficio 15 ore. La sera le hanno permesso di andare a casa, per prendere documenti. Lui accompagnato, certo, con i security, i soldati. E io, perché sono rimasta da sola, mi hanno messo dietro, dietro il vetro. Io vedevo, con i miei occhi, come sono sotto la pressione da questa gente. Come il poliziotto dell'immigrazione era sotto pressione. Sono quasi 12 persone. La stessa gente che era a casa. Sono anche con le stesse armi. Loro entravano tranquillamente dalla seconda porta, quella che è dietro. Loro le hanno intornato, circondato, sì. Lui ha girato la testa, diceva no. Poi è arrivato Boulat. Poi è arrivato Boulat. È arrivato così felicissimo. È arrivato così felicissimo. È portato tutti i documenti. ha portato il telefonino. È portato il telefono. È portato il telefono. È anche portato una pezza di carta dove è scritto il numero dell'avvocato, il numero di telefono della mia sorella. Ma appena ho cominciato a chiamare. Uno di questi ragazzi ha preso il telefonino e l'ha buttato. Non mi ha permesso di chiamare. Non mi ha permesso di non dare niente, di non dare nessun metodo di comunicazione, di comunicazione. C'era un po' Boulat è sparito. Okazzo, lo vedi da vore. E come saputo dopo lui era dietro portone. e mi ha detto, andate a casa. E lui ha chiesto dove è il mio passaporto. Dà te il mio passaporto. Dàte il mio passaporto. Loro hanno chiuso la porta e passato. Loro hanno chiuso la porta e passato. Loro hanno chiuso la porta e passato. Due ore rimaneva lì e bussava la porta. E niente non lo ha chiuso. Loro non le ha risposte e è andato a casa lui. Dopo due ore. E le miei nervi non si ritrovano? Io poi non sono stata più a resistere questa situazione. Io ho preso la sedia e mi sono avvicinata al capo di immigrazione. Io ho detto, io sono Almasa Labaeva. Io sono la moglie del leader dell'opposizione. Io ho detto, che lui è stato in prigione un anno. E la società di emissione internazionale le hanno denunciato come accusato indistamente. Quindi le hanno liberato. Sì. E anche ho detto che lui ha l'asilo politico. inglese. Io ho anche l'asilo politico inglese. e che il potere cazzacco sta perseguendo il mio marito. Io ho detto in inglese questo. Vuoi parlare l'anglese? Sì. A proposito. Il capo di immigrazione è agitato. E ciò che spostato. Il capo di immigrare all'arriamo. In questo caso è stato in spostato. Mi hanno chiesto il passaporto? E' la mia chiesto il passaporto? E' la mia chiesto? E' la mia chiesto? Non sopile. E' la mia chiesto. Il mio nome, il cognome e il mio nome è Patroninco. Ma io niente non posso parlare perché mi sono tornata e i miei sliose erano in casa. Mi hanno parlato di asilo politico, che ho il marito e mi sono sentita subito male. Sanno già tutto, stanno lavorando, solo che non sapevano dove sono. Ma io mi sono sentita subito. Ma io mi sono sentita in Ponte Galleria. E poi ci sono i miei scopi. E poi ci sono i miei scopi? E poi ci sono i miei scopi. O in pranzo, o in pubblico, o in contratto con i miei scopi. Un avvocato con l'interprete. Eravamo in brevissimo tempo. Non sono riuscita a raccontare tutto. Ma mi ha assicurato che sarà tutto tutto il video. Ma mi ha assicurato che sarà tutto il video. Che lui ha il suo passaporto con i miei scopi. E domani io sarò libero. Poi lui si è andato. Poi dopo la persona che parlava profettamente russo mi ha invitato ancora. E quando sono entrata lui aveva già in mano il cellulare. Lui si è collegato con il telefono locale e ha organizzato un collegamento con l'ambasciato. Ma io non sapevo cosa dirgli. Perché io sapevo chiaramente che non mi aiutano loro. E io sapevo che loro possono solo peggiorare la situazione. E io ho cominciato a raccontare di me. E io ho cominciato a raccontare. La mattina prossima. Questo è stato un giorno della decisione. Perché lui si può rimanere solo due giorni. Certo. 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 Lei mi ha fatto le domande diverse, dicendo che ho il passaporto falsificato, ma io intendevo dire che non ho il passaporto falsificato. I miei avvocati mi dicevano perché intendete dire che il suo passaporto è falsificato? Per quale motivo? Invece lei rispondeva che è scritto qui su carta. Lei dicevano che gli avvocati hanno chiesto, fateci vedere il passaporto, vediamo insieme. Lei dicevano che non ho il passaporto. Lei dicevano che non ho il passaporto. E anche ha detto che non posso liberarla senza questo passaporto. E mi mi parebbe di tornare in camera. Certo che i miei avvocati hanno cominciato a risolvere questa situazione. E subito è entrata in camera la donna di security e ha cominciato a mettere le mie cose. e mi ha accompagnato verso l'ufficio della prigione. Quando sono uscita in corridoio ho visto le stesse persone con le armi. 12 persone. E tra loro era anche questa Laura. Non so se il suo nome è reale o non è reale. Lei mi ha avvicinato e ha cominciato a dire molto contenta. E ha detto che ho la possibilità di vedere la bambina. solo che devo chiamare la mia sorella. E permettere a quelle persone che stanno lì aspettando di prenderla. e che stanno intorno a lei, e dovevo dare il permesso di dare la mia bambina a quella gente. E io... 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 A... Io... 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 ho un numero di telefono dove posso chiamare, posso chiamare da questo telefono fisso? Laura non mi ha permesso per niente di chiamare, ho fatto vedere con la foglietta e ho chiesto, ho pregato di farmi chiamare, di farmi chiamare, di farmi chiamare. Lei prende questa carta e lo spezzo, a questo punto non sapevo cosa fare, ho deciso di chiamare a mia sorella, ho detto va bene, chiamo a mia sorella, lei ha compilato il numero del telefono fisso e ha chiamato allora la persona che era vicino a mia sorella. Questa persona ha passato telefonino a mia sorella? Io mi chiamare a mia sorella e mi chiamare a mia sorella, perché non ci sono in avvocati? Dove sono in avvocati? E lei piazza e dice che non mi permette la chiamare avvocati? Nasi telefonini si sono in avvocati? Noi non si sono in avvocati, ma tutti i telefonini e anche tutti i telefonini dei nostri assistenti. e anche vogliono prendere l'alua mia figlia e l'unica cosa che sono riuscita a dire non dare nessuna la bambina senza avvocati a quel tempo laura ripresa il telefono через qualche tempo laura ripresa il telefono e laura ripresa il telefono con qualcuno e lei ha detto solo che bisogna andare io ho detto a dove? lei ha chiesto però non mi ha risposto mi hanno messo tra le persone tra 12 persone micro autobus in bus minibus mi hanno fatto le domande quando eravamo per strada ha fatto le domande riguardo alla politica ha fatto le domande riguardo alle relazioni tra Presidente Kazako e Presidente Russo ho detto che sono in buona relazione io parlavo molto io parlavo molto per politica riguardo alla politica quando ho smesso di parlare lei ha tolto il suo telefonino e quindi ha fatto stop della sua registrazione a questa parte dall'altra parte c'era la persona con la barba 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 questa persona aveva proprio un impianto con i tastieri con le tasti Sì, sì. Io ho capito che mi stanno registrando e ho detto che non ho niente da nascondere. Se voi avete potete fare ancora registrazione. Poi ho capito che stiamo avvicinando l'aeroporto. E questa persona che parlava anche era in minibus. Quindi ci accompagnavano fino a fine. Sì, siamo entrati nell'aeroporto accompagnando queste 12 persone con le armi. Se è stato salvato quello video, forse vedrete che ero accompagnato da queste persone senza l'avvocato. Poi ci siamo entrati nell'ufficio, nel back office dell'aeroporto. Forse dopo un'ora mi hanno portato la bambina. La bambina le ha fatto entrare nel coridore. E lei прибежava a me. Mi voleva spaccato, ma io sdergavo le sue sue. Io volevo tanto piangere, però sono rivista. Ero nell'ufficio dove forse eravano i manager dell'aeroporto. Ci sono due tavole in centro con lo spazio. Uno di loro era molto stupito. E ha detto che qui sono 20 persone con le armi. di intorno a voi con una bambina. Cosa avete fatto così grave? Io non sopravano che rispondirei. Io non sopravano a poter rispondere. Io non sopravano che rispondirei. È il mio amore che il mio amore di cazazone. E tutto. E non. Poi il bambino voleva mangiare Poi il bambino non ci hanno portato da mangiare Quando sono rimasti tre persone ho chiesto dell'asilo politico Laura è uscita a distanza come se fosse non sentita Della sua domanda Due persone sono scappate E da quel tempo nessuno non è entrato in camera Non potevo lasciare questa stanza perché avevo bambina qui Do you remember the exact words, le esatte parole che tu hai pronunciato? E in quel momento che Laura è scappata e gli altri sono scappati Le puoi ripetere? Le puoi ripetere? Le puoi ripetere? Le puoi ripetere? E là laura chiama ребенка Viene laura Prende mio bambino a la mano e prende in mano. E io dico a per la bambina. E io comincia da correre. E io dico a per il bambina. E io dico a per la bambina. E lei va fuori verso a un minibus. E noi andavamo al minibus. per la partecipazione e invece è stato scusato ma è stato scusato in Polimeci è stato scusato e mi ch急isca ho chiesto laura Lei ha girato la testa, mi ha carezzato la gamba e ha girato verso la finestrina. Poi ci siamo fermati vicino all'aereo. C'era la persona abbastanza alta, vestita in jeans, con la camicia jeans e pantaloni in jeans. In questo momento sono arrivati subito due persone dall'Ampasciata Katziaka. Si sono presentati, uno è il consul, uno è il consul, uno è il consul Arman, uno è il consul Arman e l'altro è il consul Arman. 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 Arman, sì, poi lo scriviamo. L'Italia ha rispondeo, mi ha detto che deve rispondere al secondo il suo corso. Ha chiesto rispondere solo sì o no? Io mi sono appoggiato alla macchina, quindi le persone che erano in macchina sentivano tutto quello che dicevo io. Mi chiesto voglio lasciare, voglio andare con la bambina o voglio lasciarla con... Simakim Vladimira. Simakim Vladimira. Io non capivo perché, perché Simakim Vladimira è assistente. È un uomo. Come prende cura la bambina? In ogni caso non volevo lasciarla. Ma prima di rispondermi, ho fatto la domanda invece di rispondere. Ho chiesto ancora, posso avere l'asilo politico? Ho guardato lui, lui ha tradotto bene. L'italiano ha rifiutato, ha detto che è impossibile. Ho chiesto perché non. È impossibile, è troppo tardi. Ho chiesto perché la mia deportazione è stata firmata a livello molto alto. Italiano ha detto che è firmata a livello molto alto. in due posti a livello molto alto. Quindi sono persone molto importanti, essenziali. Quindi, il senso è che è molto importante. Sì. Sì. Due, sono due. Due rappresentanti italiani o due? Sono italiani? Non lo sa, non lo so che chi, non lo so che sia, non lo so che, non lo so che dire. Non so che. Non so quale autorezza ha firmato? Non so che guardatevi. Vi stocchi non mi sp wireless. Io, che so Non so che voglia. è una grande problematica io non so, chi lo scrive ma è stato detto così io ho detto che io faccio il mio bimba e questi italiani ci accompagnano verso l'aereo uno di loro ha chiesto posso avere il suo passaporto? lui ha detto che io non so lui ha chiesto ma c'è qualche documento accompagnato? lui ha detto che non c'è nessun documento quindi mi hanno spiegato in Cazacchistano mi hanno spiegato in Cazacchistano senza avvocato senza intérprete senza nessun passaporto senza presentare o effettuare il controllo dogonale senza bilietti senza il mondo nel mondo potreste avere un asilo politico quando mi sono salita quando mi sono salita mi hanno detto in russo in Russo mi hanno detto in Russo per direzione Ho capito subito perché l'aereo è in casaco, perché dentro c'erano i cd in russo e in casaco. Perché la figlia voleva vedere con un animato, la ragazza ci hanno portato. Ma i piloti non hanno portato i biletti, ma non hanno controllato niente. E' stato usato da Astana. Quanta gente c'era sull'aereo? Quanta gente c'era sull'aereo? Io con bambina. Dua persona. Dua persona. Alloa. E questo... Alloa. Alloa. Siedi a tutti. Siedi a tutti. Dua persona in ambasciato. Dua ciloveca in spasolta. Dua ciloveca in spasolta. Dua ciloveca in spasolta. Dio ciloveca in spasolta. Dio ciloveca. E due pilota. E due pilota. E solo tu, tutto tu. Dua pilota, quindi, dalle europee, ma uno erano di nazionità europee. È difficile capire. Certo, certo, certo. La laurea è molto importante. Poi, dopo, durante il viaggio, uno dei rappresentanti dell'ambasciato, Kazaka Nurlan, è entrato nella cabina dei piloti. E ha chiuso la porta. E ha chiuso la porta. E tutto il viaggio era lì. Poi, dopo, mi ha chiuso la mia famiglia che mi ha chiuso la mia famiglia Ma questa persona, Nurlan, parlava al telefono e controllava se l'aereo va in diritto. Sì, sempre. In direzione giusta. Certo. Certo. E quando siamo arrivati a Kazakistan, quando siamo arrivati a Kazakistan, quando siamo arrivati a Kazakistan, mi hanno registrato le telecamere. da, è il video. E questi due Kazakistan, ... 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 adesso ha detto qualcosa, loro sono rimasti in aereo, siamo usciti, ci hanno accompagnato nella parte dietro dell'aeroporto, quando sono entrata in stanza con la bambina, sono entrata tre persone dentro, loro mi hanno accusato, ci rendiamo conto che puoi essere stanca per questo, noi vogliamo sapere sinceramente quanto tu vorresti tornare a Roma? noi vogliamo sapere, quando ti vorresti tornare a Europa? come presto, vorrei sentire con i miei bambini, vorrei visitare a mio amico e ho solo un modo per arrivare a Roma, solo per l'Italia, se le persone italiane mi aiutano mi sono molto apprezzato io credo che possiamo chiederlo domani faremo noi come il Movimento 5 Stelle faremo il massimo per gestire un po' di milione questo lavoro noi, come siamo 5 persone, abbiamo fatto il massimo per uscire per realizzare la scuola ovviamente aver fatto conoscere in maniera così dettagliata la tua storia, l'accaduto ci aiuta da questo punto di vista confidiamo nel massimo impegno del governo, come sai noi siamo l'opposizione e speriamo anche in un bel gesto da parte del governo del cartagista e speriamo anche in un bel gesto da parte del governo del cartagista noi ce ne metteremo tutto noi ce ne metteremo tutto tieni presente che con noi ci sono 9 milioni di italiani e anche di più grazie 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 Questo senza nessun dubbio. Mi ricordo benissimo quando hanno messo in galera mio marito. Contro lui non aveva nessuna documentazione, nessuna prova della sua vita. La gente era con lui, loro sapevano tutto. Ma il giudice ha letto solo la decisione e è stato messo in galera. Quindi io spero di essere aiutata dal popolo italiano. Noi quello che faremo sicuramente è portare queste tue parole con tutti i dettagli che hai dato che sono importantissimi. E li riporteremo all'attenzione del Parlamento italiano. Spingeremo moltissimo su nostri ministri. Perché tanto si parla di diritti internazionali e di diritti umani. Ma poi purtroppo ci rendiamo conto che in questo caso sono stati violati in modo totale. Qualcuno dovrà prendere le sue responsabilità e in base a questo fare tutto ciò che gli è possibile per risolvere il caso. Noi comunque la nostra forza ce la metteremo tutta e quello che potremo fare sia dal punto di vista politico che dal punto di vista di mobilità sociale faremo. Noi stai facendo metteremo attraverso il risultato. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Però dopo aver capito con voi voi oggi non chiedetevi i nostri amici, ma non con i miei amici. Ma questo potete dire, vi chiedo, solo dicendo da parte di loro. parte vostra, non ne dai la mia parola